eccoci quasi pronti per partire bimbe ciao siete andate a scuola siete tornati adesso tra pochi minuti partiamo siete contenti? si? oh mi raccomando non dite che cosa stiamo andando a fare ok possiamo solo dire che stasera andremo a dormire dove a? a genova a genova quindi per una notte in un bnb e poi domani mattina vedremo cosa succede qui ha gradinato oggi ragazzi vero? ok allora ci vediamo tra poco in macchina ragazzi siamo in partenza stiamo facendo benzina siamo ancora a novara ma tra qualche oretta non troppe saremo a genova chi è contento? si cosa mangiamo a genova? stasera cena? ma spero pesce adesso sai cosa faccio ho prenoto un bel ristorante no no amore ti prego non mi farei mangiare sushi a genova fammi mangiare un bel piatto di sai qual è la cosa tipica? mamma sushi dentro la crociera la paella quando saremo a barcellona sai qual è uno dei piatti tipici di genova della liguria? le troffie al pesto le troffie al pesto come le fanno qui non le fanno da nessun'altra parte io l'ho studiato eh lo so quindi dovresti saperlo va bene partiamo papà è arrivato e ci vediamo a genova ciao ok bimbe prima tappa raggiunta hotel adesso ci diamo una scioccolatina veloce andiamo a cena tutto bene? già arrivati ok ragazzi apriamo la stanza dell'hotel Vanessa si guarda i piedi wow che meraviglia no ti posso fare il bagnetto e lavare i capelli contenta amore per sciacquarsi la bocca per lavarsi c'è anche lo shampoo guardami Anastasia qua c'è un citofono non lo devi usare perché non è un gioco eh chiami la reception nooo ragazzi ma stiamo scherzando ma io resto qua dai ragazzi ma stiamo scherzando ma che cos'è sto hotel? ma è bellissimo ma forse non so se rende ragazzi guardate un po' e mi cado wow guarda guarda cosa c'è? un cuoricino cioccolatino non so quanto da sopra no ma è stupendo ma non c'è il tesoro se non va da sopra no ma ragazzi ma avete idea di quanto è grande? mi metto in questo angolo io sono scombolta no io ho detto io ho detto voglio fare una scombola magari però non è piccola invece c'è posso fare Anastasia qua forse è bravissima no non credo guarda ah oddio aspetta qua c'è di tutto c'è sembra la pesca sembra la pesca no e là c'è quello che piace a me con la mela un'aranciata bicchieri acqua frizzante dove? è vero campari e quello sono dei gin bellissimo che buono ma per voi è la prima volta che entrate in un hotel? no no siamo già stati io però è la prima volta che entro in una stanza di hotel così ciao veramente sono sicuri adesso andiamo a lavarci le mani e andiamo a mangiare siamo arrivati in questo ristorante dove si mangia benissimo e i camerieri sono bravissimi e simpaticissimi siamo a Genova e il ristorante si chiama Osteria San Pietro si mangia davvero bene ma poi questi due i camerieri sono troppo simpatici ragazzi se venite in questa serie e mangiate il pane fatevi portare il cesto con il pane e i grissini brava Anastasia bene siamo tornati in stanza abbiamo mangiato benissimo vero? il tuo sugo era fantastico adesso andiamo a cercare Anastasia che non trovo allora qua c'è un letto qua c'è un altro letto qua c'è il mio letto imperiale ma Anastasia dov'è? Anastasia? Ani? ma cosa c'è qua? è questo l'altro letto ciao amore andiamo a lavare i denti? ah si ma guardate il mio letto dov'è il tuo letto? dov'è il tuo letto? questo per non cadere perché io si perché tanto non cade vero? basta che gli dai una spinta vola giù ah bellissimo il tuo letto molto anni 70 mi piace andiamo a lavare i denti tesoro anche tu Valessina guardatemi guardatemi no ma ragazzi io amo questa stanza mi dà un senso di ossigeno proprio mio ossigeno bravissima amore bravissima ti ha visto ti ha visto vediamo vai pronta e voilà ammazzate oh bravissima andiamo a lavare i denti buongiorno ciao ciao amore come hai dormito? bene allora ci siamo svegliate adesso andiamo a fare colazione qui in hotel e poi ci spostiamo verso quel posto in cui sveglieremo dove stiamo andando qualcuno ha scritto scritto ieri ho pubblicato un posto dove stiamo andando vediamo se indovinate qualcuno ci ha proprio azzeccato ma proprio alla grande scrivendo anche che è per il compleanno di Papa William che era il 15 aprile bravo bravo o brava sì veramente comunque tra poco lo sapranno tutti ok? andiamo a fare colazione? sì colazione americana buona manessira hai visto che la focaccia è buona? eh? non hai più fame non mangiare più però ti sei mangiata le uova strapazzate con la focaccia brava anche Anastasia bravissima questa mattina uovo? un'altra va bene se ti va se no la puoi tenere la mangiamo più tardi ok? lei ovviamente italianissima super nutella anche da in vacanza e io granola poi qui abbiamo una cremina di masterpone con amaretto che devo ancora assaggiare perché ovviamente devo ancora mangiare guardate ragazzi non ho mai mangiato niente esatto brava non ho ancora mangiato niente perché ho sempre da stare dietro a voi allora ragazze siamo arrivate e possiamo finalmente quasi 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 svelare dove siamo ok? diamo solo un'indicazione la foto che hai fatto prima in macchina quel comignolo giallo che cosa c'è scritto su? si la c la c si scrivete nei commenti secondo voi che cos'è a dopo pronti? si sale che bello mi sono da più stiamo per entrare ragazzi qui ce l'è ciao voi mi state tornando in me stiamo per entrare manca veramente pochissimi si alla fine di queste scale ci siamo guarda rossi siamo arrivati siamo arrivati ecco là welcome eccoci pronti partenza lo mostriamo vediamo e complimenti a tutti quelli che hanno scritto che stiamo andando dove? in crociera esatto che uno ha detto state andando in crociera per festeggiare il compleanno di papà guindiamo se è stato bravo o brava esatto veramente bravo ha azzeccato tutto vabbè abbiamo suggerito anche noi qualcosa nel vecchio video eh nel video precedente che il regalo di papà era da prenotare e quindi tanti auguri a papà william in crociera e hanno indovinato lo sai papà william poi ti faccio leggere i commenti godenta si te la ricordavi? si noi ci siamo già state lo scorso anno e quest'anno la ripetiamo perchè a noi stare in crociera ci piace tantissimo anche più bella anche più bella si facciamo un tragitto ovviamente diverso e stasera sono spettacolo qualcosa è uguale qualcosa no stasera guardiamo lo spettacolo chissà cosa ci sarà adesso dall'applicazione posso verificare eh no non guardare perchè già adesso so com'era a letto e non volevo saperlo quindi non guardare è un letto amore dai va bene siamo entrate nella nostra cabina guardate un po' è tutto pronto Anastasia tu dove dormi? tu dormi giù però eh dai dai guardate il balcone che bello che faccia sul mare con Vanessa primo aperitivo te lo ricordi? la nocciolina al wasabi buonissima vediamo chi la trova eh chi trova la nocciolina al wasabi grazie vince 50 euro vince 50 euro allora dove stiamo andando finalmente cosa abbiamo noi a casa? un bagno una collezione di paperelle che abbiamo preso l'anno scorso dove? qua esattamente in questa nave adesso la vado a prendere adesso direi che non dobbiamole fare un'altra collezione di paperelle cosa ci mancava? io mi ricordo che mancava la paperella regina mi ricordo questa cosa ce l'abbiamo la sirena si ok è vero la sirena e passare voi? e allora dai andiamo in sala giochi va facciamoci questo primo giretto in sala giochi quelle mani tocchiamo quella dove c'è la mano gioco anch'io eh posso? si si guardate che bello l'ingresso sembra andare a giocare a tennis sembra un campo da tennis poi c'è la palestra chissà che magari io quest'anno mi faccio una camminata su un tapirulal in crocetto non può non potete siete piccine solo io posso che sono grande e grassa la regina verde c'è anche la regina verde è una new entry ah guardala guardate che sta già prendendo le tessere da strisciare la malefica guardate che ne avete pochissime di possibilità da strisciare faccio questo allora aspettate un secondo una testa perché sennò non riesco a starvi dietro oh Anastasia è già sulle paperelle aveva detto di no ma eccola qui eccole qua signori le paperelle ah mi si schiazza cosa fai ma Anastasia quella non ce l'avevamo però si ma non l'hai neanche presa ma calma guarda la vecchietta la in fondo con i capelli viola che bellina la nonnina ah si poi c'è anche quella dentro il pesce lo squalo vuoi vedere la tipica giusto no devi andare ancora tutta più in fondo è il massimo dai prova ah no ma c'è la regina prendi la regina oh 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 si dimmi hai visto che abbiamo preso la regina la regina rosa ma io lo sapevo che prendevamo la regina vediamo la regina azzurna noi abbiamo quindi neanche la regina gialla no ascoltatevi ma quante ne so io e da quando siamo arrivati che ho detto ci manca la regina no ce l'abbiamo eh però lo preverò però gialla però l'abbiamo presa lo stesso perché io lo so prendi quella la papera no questa papera non ce l'abbiamo mamma mia ma a me vengono in mente Cristian e Lollo ma li salutiamo si Cristian ciao Cristian ciao Lollo siamo stati con loro tutta la vacanza lo scorso anno Adi è così che si gioca? brava uuuu 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 vai il canesco si sposta anche vai vale uuuu finito il tempo bravissime super sfida in moto super sfida in moto Vanessa contro Anastasia go uuuu wuuu brava, è Anastasia seconda, bravi amore, bravissime bravi amore, bravi amore pausa dolce, finalmente Anastasia, cosa stiamo mangiando? i waffles e i nutella e abbiamo deciso che domani ci svegliamo, andiamo a fare colazione e poi andiamo in piscina perché non possiamo andare in piscina oggi perché ancora le nostre valigie non sono arrivate in camera e quindi abbiamo i costumi in valigia, buon appetito, buona merenda, con la nutella, finalmente la nutella che non mangiamo mai e quindi ci voleva, dai, i waffles, i waffles si non li mangiamo mai, è vero mi sono mancati, amore, questa che noi a casa abbiamo una macchina per fare i waffles non me li fai mai, perché sono un po' grassi, buona merenda allora, merenda finita ragazzi, andiamo in cabina così vediamo intanto se sono arrivate le valigie perché io le devo disfare e non sono poco, ok? abbiamo deciso che domani ordiniamo la colazione in camera perché almeno poi facciamo prima di andare in piscina va bene, e che colazione ragazzi, domani vi facciamo vedere guardate che bello questo bimbi è un lunaparte, è estivo però, mannaggia bellissimo, è sciacqua dappertutto peccato che fa freddino, non si può andare in piscina all'aperto sì, andiamo in quella chiusa ma domani le valigi la valice in camera apri tu con tessera apri tu con tessera felice allora amore siamo partiti da genova finalmente ci stiamo muovendo non si vede quindi si va verso marsiglia adesso andiamo a capire in quale ristorante possiamo cenare e poi ci andiamo a fare un bel aperitivo prima di cena ok e la serata la prima giornata sta per terminare contenta guardate che cosa stiamo attraversando la ruota panoramica bene a genova ci vediamo fra sette giorni e sono i gabbiani amore paura sono bellissimi ma guarda oddio cosa ha preso ma ieri una signora l'acqua e una focaccia l'ha preso al volo ma guarda come planano controvento e non ce l'abbiamo perché poveri hanno fame e dobbiamo organizzarci domani li portiamo da mangiare veramente è rubato il cibo allora bimbe siamo al ristorante prima cena qua in costa come state mangiando bene tuani ragù era buono la minestrina no qualcosa è buono qualcosa un po meno adesso finiamo di cenare e poi ci salutiamo per la notte va bene ok bimbe siamo tornate a casa la stasia non si vede assolutamente vedo solo un cuscino blu che vola e qui c'è vanessina ciao amore andiamo nanna abbiamo visto lo spettacolo di mary labate che l'abbiamo anche incontrata che l'abbiamo poi incontrata ha cantato benissimo tu vanessa hai fatto un video forse poi me lo passi mentre cantava no con il mio l'ho fatto ah ok ok adesso andiamo a nanna ragazzi primo giorno sulla nave con partenza da genova e trascorso diamo la buona nostra ai nostri cucciolini domani piscina e domani mi sa piscina perché a marsiglia c'è un fortissimo vento domani quindi non si scende andiamo in piscina ok facciamo qualche gioco in acqua vediamo se mi sento meglio sì ciao buonanotte cucciolini diamo la buonanotte cucciolini cucciolini iscrivetevi al canale è arrivata mezzanotte le campane sono in festa voglio spiare papo natale non ci vedo niente di male presto nastasia corriamo giù ma grazie a tutti